mail art dal vermont dagli stati uniti ovviamente sotto l'etichetta del data l'artista che ci ha inviato il lavoro e sinclair un artista statunitense che apprezziamo moltissimo sinclair scriba e ci invia un omaggio a cavellini non ha bisogno di presentazioni si tira la cosa e cavellini solleva i pesi ed è in un gelato sinclair ovviamente ci manda ci invia tutta la sua poetica di interno interconnessione tra artisti archivi di artisti interconnessi e quindi l'arte che si muove in maniera autonoma e in quest'ottica anche una chiamiamola fanzine di un foglio con le sue notizie ecco gli archivi con una mappatura globale dei mail artisti contemporanei rete della quale ovviamente facciamo parte e questo fantastico evento happening del global postal artist che quest'anno ha come tema woman art scientist scientist avanguard now nuova avanguardia sinclair scritta vermont states